Bene, professore Grussengrun, gentilmente, il primo aforisma su Jung. Bene, tutto ciò che ci irrita, dice il professore, anzi lo dice Jung, tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi. Secondo aforisma, professore. Aforisma, professionale, ti svolge senza tutta acquisizione dell'assistente, personale. In questo modo, professore, ti svolge la condizione e l'assistente personale, ti svolge dalla acquisizione personale. ma fra possibilità di funzionare, di spiegare e di realità bene professore la ringraziamo che riesce anche ritmicamente a spiegarci il pensiero di Jung possiamo distinguere, dice il professore e dice anche Jung un inconscio personale che comprende in sé tutte le acquisizioni dell'esistenza personale accanto a questi contenuti inconsci personali esistono però altri contenuti che non provengono da acquisizioni personali ma dalla possibilità di funzionamento che la psiche ha ereditato la prego professore al terzo aforismo la spruzione di psicologia e notizia C'è un po' di bambino nel muo. Scavone, vò un'ankunzfint, vò d'autzion, di fan funcza wunderbar, di d'einti letto razzola, vò fò un fruncchestino. Di spruende fai, vò d'einti, vò d'einti, vò d'naturensbewusste. Di fongen sfringe duns glibs, vò d'amso, e fruncet vang, fruncet vang, di d'einti muo, av d'arresum sfrunc. Sfrunc! 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 Bene, professore, la Psicologia analitica cerca di far breccia nelle mura. scavando nell'incosciente per tranne fuori quelle immagini fantastiche che l'intelletto razionale aveva rigettate. Queste immagini sono fuori delle mura e appartengono alla natura in noi, che in apparenza giace profondamente sepolta dietro di noi e contro la quale noi ci siamo trincerati dietro le mura della ragione. Dio! La prego, professore, il quarto aforismo. dell'individuazione e in generale il processo di formazione e caratterizzazione a gallo toccazione di singola individualizzazione, in particolare lo sviluppo di individui psicologisti frunc e frunc, frunc e frunc, frunc e frunc, con distinzione con la generalizzazione psicologica e l'attivazione che si è calata da voi. Bene, il professore ha tratto anche, ha fatto delle citazioni, anche se apparentemente mi sembrava in lingua napoletana, l'individuazione è in generale il processo di formazione e di caratterizzazione dei singoli individui, e in particolare lo sviluppo dell'individuo psicologico come essere distinto dalla generalità, dalla psicologia collettiva. Bene, grazie a tutti, grazie al professore psicologo emerito Karl Heinz, Grüße Grunen, al professore Michele Primavico, a padre Willem van der Siel, all'associazione Association for Analytic Psychology e qualche membro del congresso internazionale della IAP, e poi all'università cattolica Sago Core, al suo direttore, grazie a tutti i professori che sono intervenuti, spero di non dimenticare nessuno, ovviamente l'illustrissimo professore avvocato Ritort, grazie, grazie, e a tutti quanti grazie e alla prossima conferenza, che se non erro un attimo che guardo nell'indice, dovremmo affrontare finalmente il grande genio di Albert Einstein. Signori, grazie e buona giornata alla prossima conferenza, dal vostro amato professore Pistone. Grazie a tutti.